Ecco, come indica il cartello siamo in Avenida Primavera, in Colonia de San Gordi e ora seguiremo questo percorso per andare nella playa Estanisse che si trova dietro quell'hotel. Ecco, qui c'è la possibilità anche di andare lungomare seguendo questo percorso, ma direi che cercheremo di tagliare questo promontorio e seguiremo quest'altro percorso. L'Avenida è molto larga, ci sono diversi ristoranti come l'Ambar che vediamo qui di fronte. Kebab No Gust Ecco, questa è la piazzetta da dove siamo partiti. Molto tranquilla la località, non paragonabile a Sarenal, dove ci sono tantissimi ragazzi a quest'ora. Ecco, qui arriviamo su una strada che poi va verso il mare. Ci sono alcuni caffè ancora chiusi. Ci sono alcuni caffè ancora chiusi. Ecco, stiamo per arrivare nella zona delle saline. Vediamo la caratteristica costruzione con la torre. Ecco, qui abbiamo la fermata del TIB 517 che poi ci riporterà a Campos. Continuiamo nel nostro tragitto. Ecco, qui vediamo le saline. Ecco, vediamo i sacchi di sale pronti per la commercializzazione. Ecco, qui vediamo le immense saline. Ecco, questa è tutta l'area delle saline. Ancora andremo verso il promontorio. Ecco, qui vediamo l'hotel Universal e il Miramare. Poi lo vedremo venendo dal promontorio. Costiamo per arrivare sul mare. Vediamo delle nuove costruzioni. L'appartamento Poseidonia. Ecco, qui abbiamo una piccola spiaggetta. Ecco, proseguiamo nel nostro cammino. Ecco, questa è la playa desa bassa desca Boz. Ci sono alcuni ombrelloni. Ecco qui, di fronte abbiamo un hotel. Ecco, siamo giunti sulla punta. Ecco, questa è la vista frontale dell'hotel. Si prosegue. Ecco, questa è la passeggiata al mare qui. Non ci sono spiagge. Ecco, vediamo il nome dell'hotel. Capoblanco è questo hotel. Di fianco ne stanno ristrutturando un altro. Ecco, vediamo il Capoblanco. Ecco, stanno facendo altri lavori di riqualificazione qui sul lungomare. Di fronte a quest'altro hotel che... Anche se è chiuso. Ora qui riusciamo a vedere perfettamente Sarrapita di cui abbiamo già fatto un video in precedenza che è la località che si trova qui di fronte con tutta la spiaggia. Ecco una stradina che arriva dal The Sunset Sea Club che è un altro hotel che si trova qui sulla punta qui sulla punta. Qui si riesce a vedere tutta l'isola fino ad arrivare alle zone di Magaluf. Di fronte abbiamo un albergo che vedevamo in lontananza. Sopra c'è il The Sunset. Ecco siamo arrivati sulla spiaggia. C'è pochissimo movimento. Ecco l'albergo Riversan. Lo vediamo proprio qui di fronte alla spiaggia. Ecco con queste immagini terminiamo questo video.